Musica Weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Psyuder e oggi ragazzi un momento tanto tanto atteso da molti di voi giocatori di Quote de Hen ragazzi il gioco che sto portando oramai da una settimana a questa parte veramente molto molto divertente interessante che può tranquillamente affiancarsi al già conosciutissimo Clash Royale sui vostri dispositivi oggi ragazzi la puntata è sugosa perché sono usciti 6 nuovi codici ragazzi 6 nuovi codici da inserire tutti funzionanti li ho provati tutti personalmente e quindi funzionanti anche per il vostro profilo vi ricordo ragazzi prima di andare a vedere i codici di lasciare un bel pollicione in su se vi sta piacendo questo video è molto importante che lo facciate ragazzi iscrivetevi anche al canale youtube per rimanere sempre aggiornati sulle live e sui video che faccio ma quindi spostiamoci direttamente nelle carte così poi vi farò vedere nel dettaglio i primi risultati dei codici inseriti il primo codice ragazzi è GRANPA GRANPA e GRANPA ragazzi ci darà 15 papà ARKINSON papà ARKINSON è un tiratore della fazione dei paesani come vedete io l'ho a livello molto basso l'ho visto ai livelli alti 23-25 fa davvero davvero male velocità di attacco molto veloce velocità di movimento veloce come vedete ha anche due abilità che si sbloccano a livello 10 e a livello 30 quindi una carta che incomincieremo a vedere nei livelli alti secondo codice anche questo bello interessante bello sugoso per chi lo gioca CHICKEN EGG CHICKEN EGG ragazzi ci darà invece 15 JO sotto qualunque anche questo è un attaccante da corpo a corpo come vedete lo vedete molto ridico adesso col pollo in testa il porcone ma anche lui a livelli alti fa davvero male anche lui un combattente della fazione dei paesani come il nostro papà ARKINSON veloce la sua velocità di attacco veloce il suo movimento anche questo due abilità che si sbloccano a livello 10 che è l'ammazza orda quindi dà il più 30% di danni contro la fazione orda e nella zona cioè ha la velocità di attacco commentata del 100% fino a un massimo del 200 per cento quindi ragazzi meraviglioso anche giù sotto qualunque che era il secondo codice di oggi terzo codice ragazzi molto interessante anche questo se usate carte rare nel deck la grande sfida 89 questo è un codice ragazzi che vi darà 5 carte rare a caso e come vedete ragazzi non sono proprio poche le carte del gioco ce ne sono tante anche rare la carta fai un po fatica come in tutti i giochi fai un po fatica a tirarla su perché fai fatica a trovarla e ne servono tante per tirarla su ma una volta arrivata a livelli un pochettino più decenti fa veramente la differenza nel vostro deck arriviamo quindi al quarto codice di oggi ragazzi spider spider se lo volessimo leggere così come lo scriviamo non è molto difficile da capire parliamo adesso della fazione sede robots e spider ci darà 4 arachno chiappa ragazzi eccoli qua l'arachno chiappa un tiratore quindi lo giochiamo sempre dietro ai tank fazione dei sede robots ve l'ho appena detto velocità di attacco veloce velocità di movimento molto veloce come vedete 17 secondi l'attesa per il respawn e la sua abilità principale è che ha gli attacchi che colpiscono tutti i nemici a portata a livello 10 il 50 per cento in più di danni verso i nemici rallentati a livello 30 ha la velocità di movimento aumentato del 100 per cento fino a un massimo del 200 per cento quindi ragazzi mi fa venire in mente leggere in realtà l'abilità del nostro arachno chiappa che nel mio deck essendoci dentro la mano del dolore che è l'incantesimo che praticamente rallenta tutte le truppe caspita avere l'arachno chiappa al 10 vorrebbe dire fare il 50 per cento in più di danni a tutti i nemici che sono rallentati e come vedete la mano già a livello 3 rallenta per 7 secondi e ha un'area d'effetto di 3.6 non è assolutamente da sottovalutare questa cosa ragazzi mancano solamente due codici ragazzi ma io voglio ricordarvi ancora che ci sono degli importanti sviluppi per what the hand ragazzi entrerà molto presto la modalità multiplayer per chi ancora non lo sapesse adesso stiamo giocando sì uno contro uno ma giochiamo contro dei bot fatti contro dei bot del computer nel senso i personaggi sono veri però le partite sono registrate quindi il computer ci mette contro dei bot e tra l'altro ragazzi la novità sarà anche che se riuscirete a supportare tanto i video e le live che faccio di questo what the hand potrebbero arrivare cose molto sugose diciamo sia per me che per voi ragazzi potrebbe succedere anche questo non voglio spammarvi altro quindi andiamo avanti ragazzi abbiamo solo due codici ancora da vedere il primo di questi è crystal come crystal crystal ragazzi il codice crystal ci darà una carta molto molto interessante che però purtroppo bisogna potenziare per avere a un livello decente il codice crystal ragazzi ci darà voglio far trovare 10 10 malatorte ragazzi quindi 10 carte rare eccola qua la malatorta classe jolly è un jolly della fazione dei nani come vedete non ha salute e fa 141 punti ferita a livello 3 quindi già avendone 10 potrete già portarla a livello 3 velocità di attacco molto veloce velocità di movimento ovviamente nessuna soffriamo leggermente il fatto di avere 35 secondi di attesa per il respawn perché servirebbe averne di più giù come vedete le sue abilità cosa succede con la malatorta per chi ancora non ce l'ha esce il tipo con il cappello da minatore che corre finché non tocca un avversario o un personaggio o una truppa un personaggio barra una truppa quindi che sia nostra o che sia loro mette giù la malatorta che non può essere colpita ragazzi bellissimo perché abbiamo già come prima abilità il pendente gli attacchi colpiscono tutti i nemici a portata quindi l'area di attacco prende tutti e soprattutto sorpresa non attaccabile esploderà non appena verrà colpita o comunque ci passerà sopra qualcuno a livello 5 si sblocca la palla demolitrice quindi gli viene data la possibilità di respingere indietro i nemici figata esagerata a livello 15 ragazzi intossica quando muore avvelena tutti i nemici attorno quindi io credo che la malatorta sia una carta veramente veramente utile nel deck perché dovremmo riuscire a potenziarla almeno fino a livello 10 diciamo per avere secondo me un sostanzioso danno già che tolga 141 a livello 3 non è affatto male l'ultimo codice di oggi è quello che sto per darvi ragazzi gretta facilissimo intuitivo ce l'abbiamo già qua ragazzi la vediamo gretta ci darà 5 gretta verde quindi 5 carte comuni per questo combattente anche egli facendo parte facente parte della fazione dei nani è molto veloce come vedete sia la velocità di attacco che la velocità di movimento sono molto molto veloci e io non l'ho ancora potenziata ma l'ho vista giocare contro ed è devastante se giocate in combo con l'altro nano che fatemi vedere bene come si chiama che è non è questo non è questo andale andale ah non ce l'ho ancora giustamente non ce l'ho ancora e l'ultimo che mi manca che è rosy la rossa ragazzi questa fa veramente i peggio danni fa veramente i peggio danni giocata in combo con gretta verde è veramente problematico riuscire a fermarle ragazzi le abilità le vediamo sono tre ammazza elfi più 30 per cento di danni contro gli elfi a livello 10 si sblocca invece avvelenatore hai una percentuale di possibilità di avvelenare il bersaglio quando colpito mentre a livello 30 arriva l'ultima che è tossimago migliorato aumenta la frequenza delle tue abilità di tossimago quindi puoi praticamente avvelenare quasi sempre le truppe del tuo avversario ragazzi questi erano i codici nuovi di what the hen che ancora non vi avevo dato spero che siano serviti a molti di voi perché ancora non li conosceva spero li possa usare vi ricordo ragazzi che vi linko alla fine di questo video lo troverete basta semplicemente rimanere fino alla fine del video la finestrella con il video dei primi codici che avevo pubblicato quindi avrete già una ventina di codici che se volete iniziare ad usare su what the hen saranno sicuramente indispensabili io vi ringrazio tantissimo per aver seguito questo video e noi ci vediamo presto ciao lasciate like